Contratto! 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 Si è tenuta questa mattina la protesta regionale dei lavoratori del settore turistico sotto la sede di Confindustria Pesaro Urbino. Allo sciopero hanno aderito i sindacati della CISL, CGL e UIL. Il tutto nasce dal mancato rinnovo del contratto collettivo dei lavoratori del turismo, che secondo i sindacati rappresenta un danno dal punto di vista economico ed una mancanza di tutela per i lavoratori. Il contratto è scaduto da sei anni, due anni di trattative, abbiamo rinnovato il contratto in turismo con le varie altre associazioni, l'unica che si è alzata da tavola e non ha voluto firmare è stata Confindustria. Quindi ad oggi è inammissibile che abbiamo una realtà del turismo dove altre realtà sono stati rinnovati, i contratti collettivi con lamenti salariali e solo ai ragazzi del turismo industria non è stato dato nessun aumento, nessun rinnovo sia normativo che economico. Questo vuol dire che già negli ultimi sei anni c'è stata una perdita di inflazione del 17%, quindi vuol dire che già uno stipendio di sei anni fa aveva un valore, oggi c'è un valore quasi del 20% in meno, il rinnovo contrattuale permette di mantenere in linea a meno con le spese correnti. Quindi crea solo povertà non rinnovare il contratto collettivo, oltre al fatto che negli ultimi anni ci sono stati dei fatturati eccellenti nel turismo e quindi dare uno scaffo proprio ai propri dipendenti. Una situazione di crisi che non riguarda solo chi non possiede ad oggi un contratto collettivo, ma che si apre a tutto il settore turistico, che i sindacati sostengono sia alimenti su contratti pirati e irregolari. Chiedono un arretramento dei diritti e soprattutto un riposizionamento verso un modo di lavorare che è ormai superato, come quello della perenne reperibilità e come quello di un salario che è rimasto a dei valori che sono quelli di diversi anni fa. Le motivazioni che avrebbero spinto Confindustria nel non firmare il contratto collettivo, secondo i sindacati, sarebbero dettate da richieste inadatte per i lavoratori del turismo di oggi. Molto frammentario, c'è una pirateria di base, praticamente contratti in nero o quantomeno a condizioni irrisorie e quindi è difficile anche fare massa e rappresentarli tutti i lavoratori. Ma se c'è qualcuno che ancora ha dei punti fissi per rappresentarli, e credo che questi potremmo essere anche noi, tanto meglio, cioè mollare no. Da questo sciopero avanzano poi le richieste dei lavoratori del mondo del turismo, che oltre a un contratto collettivo chiedono maggior sicurezza economica e dignità lavorativa. Noi chiediamo sicuramente un rinnovo che aspettiamo da sei anni, a seguito di una trattativa che vada avanti da due anni, e anche un adeguamento rispetto ad altri colleghi come noi del mondo del turismo che hanno già ricevuto un rinnovo che invece per noi, che siamo nell'ambito di Confindustria, non è arrivato. Oltre al rinnovo del contratto chiediamo comunque una stabilità, perché il turismo è sicuramente molto colpito da contratti a termine, contratti stagionali, che quindi impediscono anche in un'ottica, in una prospettiva di vita, di fare magari progetti, investimenti, e anche un adeguamento di stipendio, perché è noto che il settore del turismo è tra quelli meno retribuiti. Grazie a tutti.